Musica Incidente oggi sabato 5 maggio intorno alle 13 in via San Marchese a Veneria Reale all'altezza di via Sargat. A scontrarsi un Fiat Blu condotto da un 44enne e un Alfa Station Vagon condotto da un 51enne. La dinamica è ancora a vaglio della polizia locale di Veneria. Pare però secondo indiscrezioni che i conducenti delle due vetture abbiano avuto un diverbio nei pressi di strada Lanza a Torino, che si è concluso, molto probabilmente a causa della velocità delle due auto, in una collisione. Il Doblos è ribaltato sulla corsia opposta e l'Alfa si è fermata dietro. I detriti e le parabrezza di una delle vetture hanno colpito una Lancia Y che si trovava parcheggiata. Subito a soccorso i due conducenti sono stati portati in ospedale, il 44enne a San Giovanni Bosco e il 51enne a Maria Vittoria. Subito a soccorso i due